Squisite signore e gentili signori, buon pomeriggio dallo stadio Leporaia di Ponte Aegola, dove tra alcuni minuti potremo assistere in diretta sul canale sociale ufficiale YouTube del US Massese 1919 alla quarta gara del campionato di eccellenza Giro A 2021. Tutto cuoio, squadra locale contro la Massese. Andiamo a leggervi le formazioni delle due squadre in campo, partiamo dalla squadra pisana, rosa diciamo abbastanza rimaneggiata, ci sono soltanto tre giocatori in panchina con l'allenatore Stefano Maccioni, ma partiamo dal portiere che è Morgillo, quindi Lecce, Bertolucci, Fino, Visibelli, Vittorini, Ercoli, Campelli, Fanucchi, Ctella, Stanciuc. In panchina abbiamo Fiaschi, Fiscella, Petova, sono ben quattro i giocatori fra il campo e la panchina ex della Massese, c'è il giocatore, il difensore Vittorini, quindi il centrocampista Campelli e l'attaccante Ctella e in panchina abbiamo il portiere Fiaschi. Per la Massese che deve fare a meno del suo capitano Zambarda abbiamo Barsottini, Battistoni della Pina, Malanchi, Rudi, Prete, Igbineueca, Lucaccini, Centonze, Papi e Couco. In panchina con l'allenatore Maurelli abbiamo quindi il secondo portiere Ventura, giovanissimo classe 2002, quindi Zambarda, il capitano, Bennati, Manfredi, Tiamma, Michelotti, Mazzucchelli, Bonini e Trotta. I direttori di gara sono Alessio Mauro di Pistoia, gli assistenti sono la signora Caterina Gelli e il signor Samuele Michele Scellato, entrambi della sezione di Prato. Bravo Pizzi, bravo Pizzi, bravo Pizzi. Eh, Dio ragazzi! Oh! 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 Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, sì, e cos'è, cos'è, cos'è questo? Bello! Male personale! Per stuck! In mezzo ha un'anniamo! Non ci credo, di questo 언니.. Eccomi! Sì! Sì! Simone! Simone! Sì! Sì! Grazie! Eccomi! Eccomi! Sì! 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 Bravo, Iuli! Bravo! Bravo, Iuli! Sì! 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 Sì!